Bene, facciamo un attimo un salto indietro perché ho voluto modificare, io non capisco perché quando RealFlow crea dei gruppi, si va a creare dei gruppi e poi dopo si apre una scena che si era salvata con dei gruppi ben organizzati, ovviamente lui doveva fare un po' questo casino qua che troviamo nel Relation Editor. Ad ogni modo lasciamo perdere questo aspetto, andiamo a concentrarci su quello che ci interessa maggiormente. Ho rielaborato gli splash, gli ho rielaborati un attimino perché li ho alzati notevolmente come numero perché non mi piacevano come erano venuti fuori all'inizio e quindi ho deciso di andare ad alzare un po' il numero di splash dell'Emission Rate e logicamente andando ad alzare l'Emission Rate bisogna andare anche ad alzare, volendo qui si potrebbe anche regolare la vita del nostro splash però preferito lasciarlo così com'era di default. Andando a regolare l'Emission Rate, quindi calcolando l'Emission Rate bisogna anche ricalcolare la FOM. Quindi dopo circa due ore di splash ho ricalcolato la FOM, da la FOM sostanzialmente ho abbassato un po' l'Emission Rate a 150 perché era troppo elevato il numero che avevo prima e ho abbassato anche la Stringness, quindi la sua lunghezza e la vita minima e massima quindi abbiamo meno vita rispetto a prima e questo comunque era quello che sono andato a fare. E dopo circa otto ore di calcolo e aver ottenuto il risultato che speravo, quindi comunque io vi ricordo che sia la FOM che sia anche gli splash li ho anche esportati in formato BIN, adesso vedremo anche perché. Ad ogni modo dopo che ho ottenuto, quindi ho concluso con questa diciamo parte qui possiamo andare a realizzarci la Mesh. Grazie a tutti. Grazie